Il governo sta considerando una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali per recuperare debiti non versati dai contribuenti. La rottamazione Quater in corso ha permesso a molti di saldare i debiti senza sanzioni e interessi, ma solo metà dei contribuenti ha effettuato i pagamenti previsti. Di fronte a un mancato gettito di 100 milioni di euro rispetto agli obiettivi, si propone una nuova iniziativa, la rottamazione Quinquies. Questa potrebbe includere una proroga per i decaduti e coinvolgere anche chi è stato escluso in passato. L'obiettivo è recuperare i fondi mancanti e fornire un nuovo incentivo per il pagamento delle cartelle esattoriali, escludendo solo alcune categorie specifiche di debiti.